Allora ero qui su chat GPT che cercavo di creare un prodottino digitale, ok, volevo creare un prodottino digitale per un mercato di riferimento che si potesse vendere via mail, nel senso io magari, esempio, i ristoranti della mia città, vado su Google, trovo i ristoranti, prendo la mail e gli mando una mail, cioè prendo l'indirizzo email e mando una mail a tutti vendendogli qualcosa, un servizio di magari scrittura dei menu, possiamo vendergli un servizio di realizzazione del menu online con tanto di QR code e chat GPT ci può aiutare in questo, ok? Questa potrebbe essere un'idea, potete fare il sito internet del menu e venderlo ai ristoratori, ok? Questo è un servizio che potete vendere tranquillamente, quindi servizi locali, cercate una nicchia, io ho scelto la ristorazione e questa potrebbe essere un'idea, però guardate qui, io gli ho dato questo comando a chat GPT, crea un prodotto digitale che può servire ad un mercato di riferimento e che posso vendere online, proprio gli ho dato questo comando perché cercavo di ottenere un qualcosa tipo l'esempio che vi ho fatto, ma lui mi ha proprio creato una vera e propria startup, ecco un'idea per un prodotto digitale che potrebbe servire ad un mercato di riferimento e che potrebbe essere venduto online, nome del prodotto PlanNow, descrizione del prodotto, PlanNow è un'applicazione web che aiuta le persone a pianificare e organizzare le loro attività quotidiane, settimanali e mensili, l'applicazione offre una vasta gamba di funzionalità tra cui la possibilità di creare elenchi di attività, pianificare riunioni, appuntamenti, quindi un'app per organizzare la giornata, ti dice il mercato di riferimento, mamme, casalinghe, imprenditori, studenti che hanno bisogno di organizzare la propria vita personale, modalità di vendita potrebbe essere venduto come un servizio a pagamento, offrendo un periodo di prova gratuito di 30 giorni, ti dice anche il modello di business e poi ti dice anche come svilupparlo e che marketing fare, c'è una vera e propria startup ragazzi con questo comando. Proviamo a chiedergli, crea un prodotto digitale rivoluzionario che può servire ad un mercato di riferimento che posso vendere online, che cosa mi darà? Ecco un'idea per un prodotto digitale rivoluzionario, nome del prodotto, mente libera, descrizione del prodotto, mente libera è un'applicazione web abbassata sull'intelligenza artificiale che aiuta le persone a gestire lo stress e migliorare il loro benessere mentale. L'applicazione offre una vasta gamma di funzionalità tra cui meditazione guidata, personalizzata, programmi di mindfulness, tecniche di respirazione, allenamenti yoga, cioè anche l'app per fare la meditazione, modalità di vendita, sviluppo del prodotto, ti dice tutto, il marketing è incredibile, possiamo creare delle startup, ovviamente l'idea rivoluzionaria non me la consiglio, il 90% delle persone guadagnano online semplicemente creando un prodotto da vendere ad un mercato di riferimento, sicuramente è molto più semplice creare un menu online per un ristorante, creare il QR code e vendere questo servizio, ti faccio il QR code, ti do il QR code che punta direttamente al tuo menu, ma è una bomba, ok? Vai su Google, ok? E cerchi i ristoranti della tua zona, inizi da quelli e poi puoi farlo in tutta Italia, ma mandi la mail, ok? Questo è il metodo più semplice, ti vendi il QR code a 20 euro, ti fai 5 ristoranti al giorno, 100 euro al giorno, che poi è semplicissimo, ok? Non hai bisogno di creare una startup per fare soldi, però c'è GPT, nel caso la tua aspirazione fosse quella, ti aiuta anche in questo, pazzesco!